Ok ragazzi, questa è Lisa Felice Del suo canale Non so come Ma io sono suscrito Quella è la pizza Adoro quella musica Ok ragazzi, avete già divertito Ora cerchiamo delle ricerche Se troviamo Lisa Felice Ve le sottoscriverò Ecco Ecco fatto Ah, anche un altro Vi descrivo anche Ecco No, questa no Eh, va bene ragazzi Oggi è tutto Sullo sito e sul mio canale Ci vediamo al prossimo video Ciao